Ma qua l'energia negativa è fortissima! La nostra teoria è che queste particelle P siano collegate con certi comportamenti inappropriati e si moltiplicano con certi atteggiamenti... come dire? Atteggiamenti maschilisti! Sì, e ti pareva che non ricadessero nel vittimismo queste, oh poverine? Ha 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 ha, poverine il maschilismo! Ha 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 ha! Oh, oh cavolo! Le particelle P sono le rossate tutte su lui, che ha fatto da catarizzatore e ora è diventato un concentrato di mascherità tossica! Grazie a tutti!